Allora, buonasera a tutti, io sono Giovanna Paladino, sono il direttore e il curatore del Museo del Risparmio e questo è il decimo appuntamento per il format Un Libro in 30 minuti. Parleremo ancora una volta del denaro e del suo significato. Il denaro, come dice l'autore di questa sera, è un mezzo di misura universale per determinare il valore dei nostri bisogni e dei nostri desideri. È però un'unità di misura personale che è una componente associata all'esistenza del bisogno e del desiderio e quindi è diversa dai centimetri e dai decibel che sono un po' più oggettivi. Inoltre sappiamo tutto che il tempo gioca un ruolo importante nella vita di ciascuno di noi e che per alcuni fisici il tempo non esiste, ma per noi comuni mortali il tempo esiste, spesso è ristretto a una dimensione temporale che è il presente e non lascia spazio a quella che è la visione del futuro. Tutto ciò condiziona la nostra gestione del denaro. Sappiamo che spesso un uovo oltre non è meglio di una gallina domani, ma nonostante tutto continuiamo a preferire l'uovo. L'attesa del futuro infatti richiede pazienza che insieme all'arte della costanza richiedono a loro volta la volontà perché non sono comportamenti che ci vengono spontanei. Di tutto questo e di molto altro parleremo oggi con il professor Paolo Legrenzi che ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito. Faccio una piccola bio, poi qualcosa dimenticherò, ma ha una bio enorme, è professore straordinario di psicologia cognitiva presso l'Università Caposcari e coordina ai laboratori di economia sperimentale che è nato dalla partnership tra Fondazione Università Caposcari e Swiss Global Asset Management. Ha studiato a Londra, ha insegnato all'estero, anche a Londra, all'Università Statale di Milano, Ginevra, Parigi, Provenza, Princeton e anche all'University College a Londra, poi alla Scuola Sant'Anna di Pisa, la Facoltà di Psicologia del San Raffaele, la Scuola Superiore di Palmira e presso l'Ateneo Uav di Firenze. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, però non fa niente, è troppo lungo perché ha scritto numerosissimi articoli su riviste internazionali, importanti, libri tradotti in più lingue e mi fermo perché i 30 minuti servono per porre qualche domanda e per presentare il suo libro e anche per lasciare un po' di spazio ai nostri ascoltatori e spettatori direi che sono online. Il libro si intitola, ce l'ho qui, L'alfabeto dei soldi e ha anche un sottotitolo Mente, Tempo, Emozioni al Servizio dei Nostri Risparmi edito da Guerini Nex ed è sempre, come sempre, disponibile in libreria oppure su internet. Si tratta di un abecedario che aiuta sostanzialmente a distinguere quello che sappiamo da quello che non sappiamo. Forse la cosa che io ho trovato e lo rende veramente unico è la contaminazione con altre suggestioni intellettuali che vanno dall'etologia alla fisiologia della visione, alla storia, alla fisica, al mondo della lettura gialla fino arrivata alla letteratura del novecento con il gatto pardo. Quindi è una lettura piacevolissima, non è un glossario, non è l'elenco della spesa. Nel libro ovviamente c'è un grande riferimento alla finanza comportamentale perché questa è l'area di specializzazione del professor Legrenzi, ci sono spunti che ci aiutano a individuare quelle stupidaggini che continuiamo a fare senza capire il perché, ma perché semplicemente siamo portati a fare la scelta sbagliata e a seguire un comportamento che gli economisti definirebbero subottimale se inquadrato all'interno dello schema della razionalità pura. Mi fermo qui come preambolo e presentazione del professor Legrenzi chiedendogli se lui vuole dire qualcosa che io ho dimenticato nella sua bio, è libero di farlo in questo momento, poi parto con le domande a Raffica. La bio è perfetta, io ho imparato questa disciplina a Londra quando ero giovane, fino agli anni 60, all'inizio e allo studio soltanto di come scegliamo, di come decidiamo, di come giudichiamo e poi negli ultimi 30 anni questa disciplina teorica è stata applicata alle decisioni economiche. Il mio maestro che mi aveva insegnato i rudimenti a Londra è finito a Princeton e io sono finito con lui a Princeton in Stati Uniti, nel New Jersey. Lì c'è forse il più famoso esponente di questa disciplina, si chiama Daniel Kahneman, che è più anziano di me, che pure sono vecchio perché si è visto che ho fatto tante cose, e questo è l'autore più noto, è un premio Nobel più noto, benché i cultori di questa disciplina che integra l'economia, la finanza, che hanno preso il premio Nobel sono 5-6, anzi l'ultimo taller l'ha preso due anni fa. Posso partire con le domande? Vado sulle domande professore, così facciamo un po' di Raffica, domanda e risposta, è d'accordo? Va bene. Allora, io parto con la prima domanda, perché leggendo il libro ho capito che le emozioni contano, quindi mi racconta che relazione c'è tra valore del denaro e di emozioni, cioè in che modo l'emotività prevale alla ragione quando si parla di denaro e di decisioni economiche. Anche Keynes, che non era un comportamentalista, ma era un, diciamo così, più standard, più mainstream, parlava di spiriti animali, di animal spirits che agitavano gli operatori. Mi racconta che relazione ci abbiamo tra questa emozione e quello che facciamo quando decidiamo di soldi? Le emozioni sono molto importantissime quando decidiamo di soldi. Sono forse l'ostacolo maggiore che i nostri soldi incontrano nel prosperare. I investimenti che noi facciamo vivrebbero molto meglio se non avessero un proprietario che prova emozioni. Qual è l'emozione più importante e più dannosa se non la controlliamo per i nostri investimenti? Cioè per la gestione dei nostri risparmi messi in un portafoglio. Sia che questi siano tanti, sia che questi sono pochi. Anzi, questa emozione più dannosa se sono pochi, perché in genere quando sono pochi sono più utili al proprietario. Le emozioni che noi proviamo nella vita quotidiana normalmente sono utili. Sono come un'automobile che ha bisogno di benzina per andare avanti e ha un motore che ha il cervello. No, le emozioni sono la benzina che fa procedere la macchina. Senza benzina non si va avanti. Quindi l'evoluzione della specie umana ha selezionato alcune emozioni perché sono state utili per la sopravvivenza e la fermazione. Un'emozione è particolarmente dannosa. Essa consiste nel fatto che quando noi perdiamo qualcosa, nel caso dei soldi immaginate che noi abbiamo risparmi per 10.000 euro, se noi perdiamo 1.000 euro e quindi i nostri risparmi scendono a 9.000, proviamo un dolore che è maggiore della soddisfazione che se passano da 10.000 a 11.000. Cioè, se noi misuriamo l'emozione gioia e l'emozione dolore in termini assoluti, la perdita fa più male del guadagno corrispondente, uguale in valore assoluto. 1.000 perdi, 1.000 guadagni. Non è che torni al punto di prima. Se tu hai 10.000 euro, ne perdi 1.000 e vai a 9.000 e poi ritorni a 10.000, in realtà non sei il punto di prima. E se poi arrivi a 11.000, godi, ti dà meno piacere di quanto non ti abbia fatto dispiacere l'equivalente perdita. Questo meccanismo vale non solo per i soldi, vale per gli affetti, per tantissime cose. La simmetria tra i guadagni e le perdite. È stata una simmetria utilissima, perché ha reso la specie umana avversa al rischio. Noi non ci prendiamo rischi in funzione di guadagni, perché questi rischi possono essere molto dannosi. Se noi non avessimo avuto un'avversione alle perdite, oggi non ci parleremmo. È una legge fondamentale che spiega anche come vanno i nostri investimenti. Da moltissimo tempo, nel corso di tutta la mia esistenza, che ho 78 anni, le azioni come forma di investimento hanno reso in media il 4% di più del reddito fisso e di più degli immobili. Le tre grandi forme in cui si possono mettere i risparmi. Gli italiani hanno 10.000 miliardi di risparmi, ne hanno circa un miliardo, ma neanche in azioni. Hanno sui conti correnti 1.740 miliardi. Nel reddito fisso, in varie forme, 3.000 miliardi. E il resto, i 5.000 miliardi, sono gli immobili. Questi risparmi non rendono nulla. Come mai, negli ultimi 5 anni, i risparmi degli stati unitensi o i fondi sovrani hanno reso mediamente il 15% all'anno? Perché hanno azioni. Perché la maggioranza di italiani ha poche azioni? Perché le azioni vanno su e giù di valore. Quello che tecnicamente si chiama mortalità, ma spieghiamo in parole semplici. Salgono e scendono di più del reddito fisso, perché se uno compra un BTP sa che alla scadenza avrà di sicuro quei soldi. Se compra un immobile non sa quanto vale e quindi è il miglior investimento psicologico dal punto di vista delle emozioni. Non ci dà mai dolori, perché lo compriamo, lo teniamo a lungo, se non siamo dei operatori immobiliari, e poi spesso non lo vendiamo, addirittura i nostri figli e i nipoti lo redditano, e comunque l'intervallo è troppo lungo perché si possa fare un calcolo di quanto vale quell'investimento, di cui noi non ci accorgiamo mai se perde di valore. In Italia da dieci anni perde uno valore, ma nessuno lo sa. Quindi questa simmetria tra il dolore delle perdite e la soddisfazione dei guadagni la notiamo soltanto con la forma più profittevole per investire i nostri risparmi. A causa di questa simmetria noi investiamo male i nostri risparmi. Se i diecimila miliardi fossero investiti come qualsiasi fondo di un'università statunitense li investe, noi avremmo circa oggi sedicimila miliardi. Potremmo pagarci il debito pubblico e ci resterebbe ancora qualcosa. Questo dà un'idea dell'importanza di questa disciplina. Ma grazie, ci sono tantissimi spunti che mi vengono ma magari poi li affrontiamo dopo anche su effettivamente come reagisce il cervello e come i nostri elementi celebrali, neurofisiologici determinano questa reazione. Però voglio passare, mi dato la palla per parlare di risparmio, perché il Covid-19 ha portato a un fortissimo aumento del risparmio e perché? Semplicemente perché la gente non aveva possibilità di spendere. Quindi tutti noi, me comprese, ma anche il professor Legrenzi, secondo me abbiamo aumentato il nostro tasso di risparmio. Spesso però il problema del risparmio per le famiglie italiane non è mai stato un grande problema. Proveniamo da una cultura contadina che comunque ci ha insegnato il valore dell'accantonamento, però non ci ha insegnato il valore della progettualità. Io dico sempre che gli italiani sono un po' risparmiatori per caso, riprendendo il famoso titolo del film Turisti per caso, cioè risparmiano quello che avanza fondamentalmente, ok? Quindi non avendo un progetto questi soldi rimangono dove stanno, cioè sul conto corrente, come appunto ci diceva sono soldi mal investiti. Però io mi chiedo come possiamo superare questo ostacolo? perché questo è il momento di farlo, per ripartire l'economia italiana, ma l'economia mondiale in generale, ma l'economia italiana in particolare perché partiva da un periodo diciamo così di difficoltà già precedente, ha bisogno che i risparmi si tramutino in investimenti. Quindi ha bisogno di questo passaggio perché i soldi pubblici sono tanti, sono centinaia di miliardi, lo sa anche lei professor Legrenzi, un'enormità, ma non bastano, non bastano a far ripartire l'economia da dove è caduta, ok? Quindi c'è bisogno dei soldi. Cosa possiamo fare in concreto per convincere gli italiani che si deve investire? Perché l'investimento è gioia, è progettualità, è futuro, no? Cosa possiamo fare? Da un punto di vista psicologico, non glielo chiedo da un punto di vista pratico. Da un punto di vista, io parlo con lei che coordina, che dirige un museo del risparmio. A Venezia ci sono 32 musei. Quando uno va in un museo, impara qualcosa. Se va al museo, non so, della marina, impara le navi che hanno fatto la storia della marina militare e commerciale. Se va al museo di storia naturale, impara la storia naturale. Se va all'accademia, impara la magnificenza della pittura rinascimentale veneziana. I musei di economia sono diversi da tutti gli altri. Perché quando uno entra, qualsiasi persona che entra nel museo che lei coordina, ha già delle idee sui soldi. Fin da bambino e poi da adolescente ha avuto a che fare con i soldi. Lì, in queste intuizioni, in queste conoscenze ingenue sul denaro, si annida il maggiore ostacolo per dei buoni investimenti. Quindi, come quando vernicia una porta, bisogna prima sverniciarla e ripartire da zero. E poi spiegare l'ABC, degli investimenti, che si può spiegare anche in tre, non ci vuole di più. Ma questo ABC non risiede nei manuali di economia e finanza. Risiede, in realtà, nel capire come funziona la nostra testa, che è la nostra nemica nel caso di investimenti. Lei, giustamente, ha fatto l'esempio recente della pandemia che ha portato a 1.730 miliardi sui conti correnti. Perché ci sono 1.700 miliardi che non rendono nulla sui conti correnti? In generale, in Italia, metà dei risparmi italiani non rende nulla, è investito malissimo. Parliamo, però, di questi 1.730. Essi giacciono sui conti correnti perché gli italiani non hanno un'idea dell'assicurazione. Non conoscono cos'è l'assicurazione. L'assicurazione è una misura del rischio che le assicurazioni da quattro secoli sanno fare e che permette di prevenire un guaio. Non avendo questa conoscenza, quindi avendo un'idea vaga perché confondono il rischio con incertezza, non hanno l'idea che c'è un rischio misurabile che quindi si può ammortizzare con le assicurazioni e c'è invece resta un'incertezza dei rischi non misurabili. Fanno tutto un pastone, tengono i soldi, soprattutto le persone meno abbienti, perché non si sa mai. Potrebbe succedere qualcosa di negativo e quindi usano quelle norme liquidità come prevenzione di guai, i quali guai, se lei va a vedere, parlo di cose che sono sempre studiate dalle assicurazioni, sono cose note, se lei va a vedere i guai che colpiscono soprattutto da un punto di vista economico le persone, il 90% lei lo può eliminare assicurandosi. Quanto costerebbe assicurarsi da questi guai? Circa 250 miliardi. Quindi lei potrebbe assicurare contro questi guai, i guai sono essenzialmente o ai beni, immobili dove uno abita, o al capitale umano, si ammala di questi tempi. Quindi queste sono le due grandi classi di assicurazioni da fare, capitale umano e beni. Con 250 miliardi si assicurerebbe. Gli analisterebbero 1500, i quali, se lei li avesse investiti in quello che tutti vedono, cosa è successo durante questa pandemia? Ci parliamo la conferenza, come mai ho fatto in vita mia, a differenza di mio figlio, attraverso un computer. Parlo con mia moglie da lontano, parlo con mio figlio da lontano, con iPhone, con FaceTime e così via. Quindi bastava comprare l'indice Nasdaq dove sono quotate le aziende che fanno le tecnologie. L'hanno fatto gli italiani? No. Non hanno saputo collegare questo cambio della vita profondo, che è un'accelerazione di un processo che già c'era, perché tutti sono chi su questi schermi, nei treni, dappertutto, nei bar, i ragazzi quando esco qua a Venezia. Non hanno saputo collegare questo cambiamento profondo della vita con questa grande opportunità di risparmi. L'indice Nasdaq è salito del 40%, adesso ho dovuto scrivere un libro per le Mondadori, perché incautamente un anno fa ho dato un consiglio esattamente. Non do mai consigli, perché se i consigli sono giusti dopo non si libera più dalle persone. Se sono sbagliati le persone ci restano male. Ma siccome era un po' il momento molto delicato della mia vita, perché mia moglie stava molto male, mi sono permesso di dare questo consiglio e adesso ho dovuto scrivere un libro intero per spiegare questo consiglio, che però si può spiegare anche in tre minuti. Quindi l'italiano medio è nemico di se stesso. I 1700 miliardi li sono messi lì perché il grosso di queste persone non sono persone sventate, sono persone frugali, che risparmiano molto, che hanno senso della famiglia, che vogliono bene ai loro figli e nipoti, pensano di destinare spesso questi soldi in eccesso al loro tenore di vita, che è frugale, ai figli e nipoti. Ciò nonostante, questi ottimi sentimenti, questi sentimenti, queste emozioni, non producono gli effetti sperati perché mancano le nozioni elementari che funziona la nostra testa. Siamo talmente ignoranti dalla nostra ignoranza che di questi 10.000 miliardi sono seguiti da esperti meno di un quinto. Eppure queste stesse persone, se si rompe l'impianto elettrico, se si rompe l'impianto idraulico, se devono, hanno una grana, vanno da un avvocato o da un commercialista o se vogliono riarredare la casa, vanno da un arredatore, cioè sentono che c'è uno che sa più di loro. Come mai, grandissimo quesito, nel campo degli investimenti, dopo essere stati delle ottime formichine risparmiatrici, non sentono che ci sia, non si accorgono neanche del fatto che non lo sanno fare? E poi ne parleremo, e poi ne parleremo magari del fatto che non si accorgono e che soprattutto mancano di fiducia, perché si fidano di più magari dell'architetto che del gestore della banca o della posta, insomma, quindi mi ha dato però anche qui un'altra palla al balzo, io raccolgo, perché facevo la pallavolista, quindi raccolgo tutte le palle che mi alza, perché ha parlato di tecnologia, e nel libro, perché ho detto il libro è un abecedario, ma non è un glossario, non va per lista della spesa, è una cosa più bella, non è una cosa noiosa, quindi dedica un capitolo, se non sbaglio il capitolo B, ai big data, quindi ha un'evoluzione tecnologica importante, perché appunto noi sappiamo però che anche questi big data elaborano algoritmi, elaborano algoritmi su dati che talvolta sono distorti, perché se pensiamo che Google si è ingoiata, diciamo così, fatemelo passare questa parola, si è ingoiata pentinaia di biblioteche fondamentalmente, con delle informazioni, informazioni che potevano avere dei bias, l'algoritmo che verrà fuori da questa elaborazione di big data ovviamente potrebbe essere distorto, no? Lei anche dice i dati potrebbero aiutarci a capire meglio gli stati d'animo, ma come fanno ad aiutarci a capire gli stati d'animo se però questi big data hanno comunque questa commissione tra ciò che è distorto e ciò che non è distorto? Lo so che la domanda è un complesso, però mi interessava anche affrontare questo tema perché abbiamo, facciamo tutto in poco tempo e poi ci rimane poco. Allora, naturalmente qui bisogna fare una distinzione che è importante anche per l'economia e la finanza. Lei può immaginare un attore ideale che è perfettamente razionale. Qualsiasi studente che studia economia al primo anno, in qualsiasi università italiana, su 80 università, la grande maggioranza ha dei corsi di economia, dei dipartimenti di economia, impara il funzionamento di un attore razionale, una sorta di angelo che non trova mai nella vita, ma che è stato necessario per costruire la scienza economica tradizionale. Lei può raccogliere dei big data, in realtà, sul lavoro fatto da questi angeli, che di fatto in finanza ed economia sono computer. Questi computer non hanno emozioni, non hanno bias, perché ricordiamoci sempre, rispetto alla domanda iniziale, che i nostri soldi non hanno emozioni, il nostro piccolo grande che sia portafoglio degli investimenti non ha emozioni, è il proprietario che ha emozioni e con queste emozioni fa danno ai suoi investimenti. Questa distinzione cruciane va tenuta anche nel caso dei big data. Le big data possono essere relativi a dati economici finanziari, cioè a azioni fatte in campo economico finanziario. Se non ci fossero i computer, lei non potrebbe aver costruito dei prodotti che le permettono, a costi bassissimi, di diversificare in tutto il mondo. Questo lo fanno i computer. Adesso può comprare le azioni in tutto il mondo, pesate per l'importanza dell'economia, non spende niente e quindi ha a disposizione, anche dalla persona più modesta, un'opportunità di investimento ottima, che però lui non fa. Viceversa i computer possono anche raccogliere tutte le conversazioni di quelli che li usano, i cosiddetti social, cioè possono raccogliere tutti i commenti, le conversazioni, le interazioni che sono miriadi, miliardi ogni giorno, e vedere gli stati d'animo di queste persone filtrando le parole con cui avvengono le descrizioni dentro queste conversazioni. E quindi lei ha anche una informazione relativa agli stati d'animo. I quali stati d'animo, per quanto riguarda il nostro argomento, le mostrano che le persone hanno paura, in generale, quando non dovrebbero averla, e viceversa hanno troppo entusiasmo quando non dovrebbero averlo. E questo spiega perché, se non è un mistero, in realtà i mercati finanziari oscillano così tanto e fanno paura. Quando è sorta la pandemia, un esempio concreto, le borse mondiali sono scese del 35%. È stata un'occasione favolosa, di cui pochissimi hanno approfittato. Poi sono risalite, mediamente, più ancora di quanto fossero riscese. I prodotti tecnologici, quelli legati a Big Data, sono saliti su un Nasdaq del 40-45%. Quindi, in realtà, lei ha l'uso di questa enorme massa di dati nei due sensi. Nel senso dei dati oggettivi e delle reazioni delle persone a questi dati oggettivi. Alcuni maliziosi... Come mai il grande mistero dei dati? Le reazioni sistematicamente sempre rendono più, soprattutto le azioni americane e all'interno delle azioni americane, le azioni di tecnologia, ancora prima della pandemia, rendono molto di più di tutto il resto. rendono molto di più di tutto il resto, perché oscillando di più fanno più paura. E questo extra rendimento di queste forme di investimento è la compensazione per la paura. Per la paura delle persone, non per la paura degli investimenti. Quindi, chi non ha paura in questo campo ha questo extra rendimento che gli viene regalato da chi ha paura. E questo meccanismo è profondo, è dentro il nostro cervello, si è formato in centinaia di migliaia di anni. Però allora ci vuole, qua c'è una domanda di Diego, che l'ha messa qua sulla chat e la leggo, perché dice, ma perché gli italiani sono diversi da tedeschi e dagli americani? Perché abbiamo più paura? Se l'avversione alle perdite è un effetto umano, la genetica è quella, dovremmo averlo tutti. Perché noi siamo più portati ad essere più paurosi? Perché anche i tedeschi risparmiano tanto, anzi i tedeschi, i francesi, gli austriaci risparmiano più di noi, il tasso di risparmio è più alto. Noi siamo intorno, prima della pandemia eravamo intorno al 9%, loro intorno all'11%. Quindi, perché in Italia è così diverso? Perché si può imparare, se no non sarei qua a parlare, non avrei scritto sette libri sull'argomento, si può imparare a superare razionalmente questi bias. L'Italia i soldi li ha fatti da poco tempo. Abbiamo fatto tardi la rivoluzione industriale, quindi molti dei nostri risparmi sono stati fatti dalle persone della mia generazione. Queste persone guadagnavano molto, non si preoccupavano degli investimenti, in genere compravano una prima casa, erano contenti, la prima casa di servizio, se no uno dovrebbe essere... Poi compravano una casa per le vacanze, poi compravano una casa per i figli, hanno messo via molti risparmi, non stavano a vedere se gli investimenti erano fatti bene o male, non si sono mai posti problemi e investimenti. Non è che si deve imparare tanto, basta leggere un mio libricino che ci mette un'ora o uno per investire, per imparare queste cose, ma non hanno mai sentito il bisogno di farlo, perché è la prima generazione. Inoltre hanno dedicato moltissimo risparmio alla casa, agli immobili, che da un punto di vista psicologico sono le cose migliori. Negli altri paesi come gli Stati Uniti hanno imparato perché hanno risparmio da molto più tempo. Vi ricordo che quando i studenti italiani venivano i Stati Uniti per la prima volta, una cosa che restano compiti è che qualsiasi programma televisivo americano le dice come va lo Standard & Poor's 500, cioè l'indice più diffuso della borsa statunitense, perché metà degli americani è povera e non ha una linea di risparmi, ma stiamo parlando dell'altra metà. L'altra metà ha molti risparmi in borsa e questi risparmi, in questo secolo soprattutto, che è stato un secolo eccezionale, sono molto molto cresciuti. Si può imparare. Se non si potesse imparare, avrei sempre fatto l'accademico teorico e come dico, non avrei fatto conferenze, non avrei scritto libri su questo, è molto difficile però, perché l'ignoranza è talmente forte che non è ignorante. Lei non sa come funziona il pianto idraulico, chiamano idraulico, non crede di sapere mettere a posto un pianto elettrico idraulico, di saper fare una causa, di quando compra una casa vada a un notaio, lo sa di non sapere. Qui invece, l'essere stati bravi a risparmiare induce le persone a credere di essere bravi a investire e non sanno neanche di non sapere. Questo è il muro con cui io mi scontro da decenni. Dico solo una cosa per dire che Schiller, Robert Schiller, che sicuramente conosce, perché si occupa anche lui, insomma, di economia comportamentale, dice una cosa che a me piace tanto, cioè, l'ha detta in un'intervista che ha rilasciato al museo, cioè, che nel momento in cui la finanza si troverà nella condizione della medicina, per cui si passa dal fai da te al medico personale con una forte riduzione delle morti e della mortalità, ma invece in questo caso si passerà al gestore personale, avremmo fatto un passo in avanti fondamentalmente, no? Quindi, questa sindrome di Dunning-Kruger che ci fa pensare di sapere quello che non sappiamo, forse sia nella medicina che nell'economia, fa molti danni. però io ho una domanda da parte di Davide, quindi io cerco di dare spazio ai nostri telespettatori, non so, quelli che ci vedono online, non so come chiamarli, dice vorrei fare una domanda al professor Regrenzi, secondo voi nelle università si fa abbastanza per avvicinare gli studenti al mondo degli investimenti e si inserisce proprio in quello che diceva lei prima, no? In America e nel UK hanno investment clubs che scelgono diretti in antitra studenti, giornali universitari di finanza, di investimenti, eccetera, eccetera, alcune banche negli Stati Uniti forniscono accesso facilitato e commissioni ridotte a depositi e titoli per studenti universitari. In Italia nessuno se ne interessa più di tanto. Vorrei domandare il vostro parello, domanda che a me, ma io la lascio a lei, dire, come interverreste se voi fosse nella posizione di poter decidere? Ringrazio anche Davide. Cosa gli risponde? Cosa si può fare per avvicinare gli studenti? Beh, nell'università mediamente si fa un danno, non è che si avvicinano, si allontanano, perché il programma standard di economia e finanza la illude di sapere come investire i soldi, ma siccome non le spiega come funziona la sua testa, succede che io conosco ovviamente molti professori anche autorevoli di economia, non sono bravi a investire i loro soldi, tra le poche eccezioni, quindi si deve imparare mentre è facile fare i risparmi, basta consumare di meno di quello che si guadagna, quindi una vita frugale, gli italiani fanno una vita molto frugale, per investire bisogna sapere come funziona la testa. L'università italiana unico al mondo ha delle barriere totali tra le varie discipline, quindi anche i miei colleghi di psicologia non sanno nulla di economia e finanza, così come i miei colleghi di economia e finanza in media non sanno nulla di psicologia, per la verità adesso incominciano a sapere perché gli economisti statunitensi hanno preso, hanno dato il premio Nobel a sei psicologi, quindi a partire da Simon negli anni 70 fino a Tyler l'anno scorso, quindi lì è molto più affermato. Nei dipartimenti di finanza americani ci sono sempre almeno uno studioso o due che sa le cose che so io, che sa Schiller e così via. Io quando stavo a Princeton avevo un vicino di casa che era andato in pensione, il professor Iscoviz e sua moglie esperti della turatura turca, quando hanno dovuto scegliere come fare la pensione il marito ha voluto capire e si è informato a fondo e poi ha messo metà in azioni e metà in obbligazioni. La moglie invece che mangiava in mensa dove c'era Schiller non ha disturbato Schiller, ha chiesto all'ultimo dei suoi assistenti e lui gli ha detto hai bisogno di questi soldi? No, mi deve già sovrabbondante lo stipendio del professor a Princeton. Bene, compra tutte azioni e lei ha comprato tutte azioni. Alla fine andati in pensione ero i miei vicini di casa, la signora aveva una pensione doppia del signore che viceversa si è riformato. Bastava domandare all'ultimo degli assistenti di Schiller. Questa per me è una grande lezione sul ammettere di non sapere, andare, che poi non è che lei deve cambiare gli investimenti, anzi, meno fa, non ha fatto più nulla, bastava comprare lo Standard & Poor's e tenerlo fino alla pensione. La sua pensione sarebbe stata il doppio perché anche in America c'è quel premio al rischio che fa sì che l'investimento azionario renda di più. Sono cose molto elementari, sono ignote perché nessuno impara la teoria del prospetto di Kahneman se studia economia e finanza e nessuno ha psicologia, la psicologia addirittura è lontana, hanno in luce da questi studi tutti i miei colleghi perché in realtà si dedicano in genere all'assistenza delle persone che non stanno bene ma anche questa sarebbe un'assistenza collettiva perché se noi invece avessimo 10.000 miliardi ne avessimo 15.000 in realtà soprattutto i centi più bassi sarebbero enorme vantaggio anche perché tutto il debito che stiamo facendo in questi mesi passare dal 130 al 160 a superarlo di debito anche qui una forma diciamo di ignoranza dell'ignoranza sarà qualcosa che i nostri figli e i nipoti pagheranno non è che questo debito scompare con la bacchetta magica o scompare facendo inflazione o scompare alzando le tasse oppure scompare con una crescita economica molto bassa per decenni quindi comunque un po' di educazione finanziaria in più anche nelle università sarebbe utile quindi qualche corso di economia comportamentale sarebbe da introdurre all'interno del percorso universitario anche degli architetti anche degli ingegneri perché la mancanza di educazione finanziaria in realtà è trasversale riguarda materie non la fanno perché un giovane di 25 anni addottoratisi di belle speranze non fa carriera se studia questo non c'è capisce io sono tanto ordinario con 30 anni potrei studiare tutto quello che volevo e quindi mi sono dedicato a questa disciplina ma se io erano altri tempi se andavo in catena delle giovani fece carriere svelte oggi questa disciplina le permette di fare dentro l'università e quindi ovviamente noi la incentiviamo lo stesso facciamo lo stesso tanti programmi anche per gli studenti universitari c'è un'altra bella domanda perché io non è che la interrompo perché la voglio interrompere ma perché voglio dare spazio a chi ci sta seguendo l'altra domanda è questa ci vado un po' al di là dell'aspetto cognitivo e di Vincenzo non è che sono le scottature prese anche da altri che fanno da esempio negativo e ci fanno evitare gli investimenti allora io dico che questo in parte è vero perché lo sappiamo che dopo le grandi crisi c'è una generazione che rimane che anche se non ha perso niente in realtà rimane fregata in qualche maniera è come se avesse perso quindi c'è questo elemento per cui noi prendiamo anche le perdite degli altri sulle nostre spalle cioè questo è un fattore che conta c'è ed è gravissimo qui si collega alla domanda di prima come mai in America non succedono certe cose i media italiani intesi in senso generale danno sempre una per attirare l'attenzione da quando c'è un'enorme competizione pur di attirare l'attenzione danno sempre notizie negative se lei guardasse le notizie date dai media sui social dappertutto sull'andamento dell'economia e finanza lei avrebbe si farebbe un'idea se fosse un marziano l'opposto di quello che succede alle cadute della borsa viene dato enorme rilievo poi non viene dato rilievo alle salite le cadute sono temporanee e molto corte vengono sempre dati notizie sui guai sugli imbrogli sulle banche un grande balzo dei risparmi tenuti nei conti correnti è stato quando in Italia sono fallite quattro banche quelle che poi il dottore Nicastro ha salvato successivamente queste notizie di comportamenti scorretti da parte delle banche hanno grandissime notizie grandissima rilevanza e quindi questo determina nell'italiano medio una sfiducia e questa sfiducia è una sfiducia nei confronti di tutte le persone che potrebbero un po' aiutarlo è vero che spesso gli intermediari nelle banche sono poco preparati ma l'italiano medio da solo fa talmente male che in realtà è molto difficile non fare un po' meglio il punto di pareggio del costo di un esperto rispetto a uno del fai da te è altissimo in Italia è il più alto di tutti i paesi occidentali perché questo costo di pareggio è la differenza tra cosa rendono i risparmi gestiti bene e cosa rendono col fai da te ecco questa quindi per quanto un consulente sia scarso per quanto un impiegato di banca sia impreparato è molto difficile fare peggio di quello che ha fatto la nostra generazione un'altra domanda un'altra curiosità questo la faccio io poi intanto lasciamo arrivare alle domande anche dal pubblico perché il tempo è un elemento importante lei lo tratta all'interno del libro ne parla spesso noi abbiamo diciamo così un concetto fondamentale per la buona gestione dei soldi ha fatto l'esempio della moglie del professore che viveva di quanto a lei a Princeton perché è riuscita a fare un gruzzoletto perché ha tenuto nel tempo quella decisione fondamentalmente però l'ha presa in 5 minuti e poi non sono più occupata per i successivi 30 anni ha avuto la visione di lungo termine diremmo l'assistente l'assistente ce l'ha avuta lei si è fidata quindi ci sono due elementi la visione di lungo tempo e la fiducia però insomma il mondo cambia in maniera repentina quindi cambia continuamente questo ci spinge ad essere molto presenti perché non riusciamo a stargli dietro dall'altro appunto la questione del tempo è fondamentale perché anche nell'investimento la scelta di mantenere la decisione paga quasi sempre perché se no le commissioni di entrate e uscite diventano fondamentalmente una perdita secca non si riesce a guadagnare niente ovviamente il tempo serve anche a svincolare le nostre diciamo così i nostri investimenti le nostre decisioni dall'emozione perché l'emozione si attacca di più diciamo così al momento attuale piuttosto che all'idea del lungo termine quando ci vediamo nel lungo termine ora tutto questo è qualcosa che riguarda la gestione dei soldi ma anche che riguarda il concetto di sostenibilità a cui il museo è molto è molto interessato abbiamo diversi progetti che collegano la sostenibilità economica con la sostenibilità ambientale poi un giorno vi racconterò anche interessanti ma in che modo la sostenibilità può entrare nella consulenza finanziaria mi piacerebbe toccare questo tema per chiudere poi magari intanto va premesso che i migliori investimenti finanziari sono fatti su entità intangibili immateriali e se erano soltanto 40 anni fa il 20% la borsa americana oggi sono il 90% la borsa americana quindi il petrolio l'industria pesante tutto ciò che è materiale è stato qualcosa che non è neanche conveniente dal punto di vista degli investimenti basti vedere che il Nasdaq i titoli tecnologici l'immateriale fa meglio lo stand and poor che fa meglio in realtà poi di borse che sono legate al manifatturiero come il DAX tedesco quindi le due cose si sposano lei però mi ha domandato all'inizio il tempo il tempo è il nostro grande nemico dato il fatto che abbiamo poco tempo per l'appunto ho parlato delle emozioni e adesso parlo del tempo ho scritto un libro intero sul tempo che è uscito a maggio per l'associazione italiana Pride Banking che è interessata a sviluppare questo concetto oggi così attuale la nostra abitudine del tempo è fatta per cicli corti le giornate le notizie e le borse le danno ogni giorno i giornali escono ogni mattina ci alziamo lavoriamo andiamo a dormire questo ciclo corto è molto dannoso per le decisioni di investimento e per seguire i nostri investimenti perché se è vero come è vero che le perdite le fanno più male dei guadagni quanto meno spesso le guarda il suo portafoglio non dico come la signora Iscoviz che non l'ha guardato per 30 anni perché si è filata dell'assistente che sapeva di più perché lei ha detto io so tutto della storia turca del settecento e questo qua che fa l'assistente di Schiller sulla domanda così semplice saprà dirmelo il marito invece ha voluto con superbia capire lui e non si è fidato dell'assistente che non aveva nessun interesse allora il tempo quanto più lei guarda il suo portafoglio tanto più vede questo andamento a seghetta dove non torna al punto di prima perché la perdita le fa male quando torna prima se lei ha una finestra temporale ampia non dico i 30 anni della signora Iscoviz ma basta averla di 5 anni lei si accorge per esempio della superiorità di un investimento azionario rispetto a tutte le altre forme di investimento però la gente ci tiene i soldi perché li ha risparmiati ha fatto fatica quindi un po' staccarsi dei suoi risparmi quindi il portafoglio qualcosa come di diverso da sé quindi il consulente anche il più scarso ha questa funzione di frapporsi tra il risparmiatore e i suoi risparmi è molto importante anche questo uno può imparare a farlo da solo io seguo ogni giorno i mercati finanziari e non tocco mai per anni e anni il mio portafoglio non c'è bisogno si può imparare ma lei ha detto un portafoglio sostenibile in che modo possiamo inserire il concetto di sostenibilità all'interno del portafoglio perché magari qualcuno da dieci anni i portafogli migliori sono quelli sostenibili non c'è nessuna contrapposizione così come non c'è nessuna contrapposizione tra l'economia e la sanità durante la pandemia perché lei dice no perché in realtà i paesi che hanno affrontato meglio la pandemia sono quelli che sono anche ripresi meglio economicamente guardi la Corea del Sud non c'è nessuna opposizione non c'è nessuna opposizione tra anzi se lei ha un animo sostenibile senza capire magari perché fa il portafoglio migliore perché lei è proiettata sul futuro sull'intangibile sull'immateriale il quale ovviamente è lo sviluppo del nostro futuro e anche del nostro presente però il grande balzo dell'immateriale dell'intangibile durante la pandemia non è un fatto nuovo è l'accelerazione di una tendenza che c'era da più di un decennio quindi le due cose sono due facce della stessa medaglia la nostra vita funziona e anche il nostro tempo libero il nostro lavoro quello che stiamo facendo adesso funziona grazie all'intangibile l'intangibile in realtà permette la sostenibilità perché che cos'è perché noi non abbiamo un mondo sostenibile perché noi quando siamo arrivati agosto settembre abbiamo sfruttato tutte le risorse della terra risorse che non sono più rinnovabili e noi invece dovremmo arrivare in realtà almeno alla fine di dicembre cioè non incaccare ulteriormente le risorse guardi su questo la interrompo professore però io la interrompo a fin di bene non per maleducazione perché è arrivata una domanda proprio da Patrizia Mosca che ci dice ho detto il cognome vabbè mi perdonerà che come si fa ad avere un portafoglio sostenibile se si guarda il Nasdaq dove ci sono aziende che di sostenibile hanno proprio pochetto il concetto di sostenibilità ha molte declinazioni la declinazione più ovvia tipo Greta Thunberg è di non sfruttare tutte le risorse che il pianeta ha accumulato in milioni di anni quindi l'energia i boschi le foreste non mettere anidride carbonica nell'aria poi c'è anche naturalmente un aspetto invece più umano come un'azienda tratta i suoi dipendenti come tratta l'ambiente in cui questi dipendenti lavorano e così via e questa obiezione è molto giusta perché nel Nasdaq ci sono aziende molto sostenibili e aziende non sostenibili naturalmente uno potrebbe prendere dei prodotti a basso costo degli ETF fatte solo di aziende che sono un sotto insieme del Nasdaq che sono sostenibili tenga presente però in generale se non vuole andare nei dettagli che comunque se tutto il mondo fosse fatto dall'azienda del Nasdaq noi avremmo uno sfruttamento delle risorse materiali del pianeta molto più basso in questo momento noi stiamo utilizzando soltanto un po' di energia elettrica essa può essere prodotta con un'energia eolica in questo momento mentre se io fossi andato a fare una conferenza a 400 consulenti in macchina e così via con la benzina e loro fossero venuti l'avremmo usata molto di più il nostro webinar è sostenibile che dice il professor Regrenzi ho un'ultima domanda poi chiudo perché ho fatto una promessa noi non sforiamo onestamente con i tempi la faccio solo perché ci tiene tanto la persona Davide ci tiene a sapere la sua opinione la pazienza è quindi il concetto più importante che un investitore deve ricordare secondo lei? Sì la pazienza è il concetto più importante ancora più importante perché esso produce la pazienza è che i nostri investimenti sono un fine per delle cose un mezzo per dei fini che non hanno a che fare col denaro con i soldi i nostri figli la nostra efficità la nostra famiglia e allora noi non dobbiamo avere pazienza basta che abbiamo negli investimenti gli stessi tempi che sono importanti per noi se lei fa un cerchio l'ho fatto centinaia di volte nelle conferenze al suo centro il nostro interlocutore mette il proprio io lui stesso e poi fa dei cerchi concentrici sulle cose che ci tiene di più le cose a cui ci tiene di più non sono cose economiche materiali sono cose affettive e queste hanno tempi lunghi abbia gli stessi tempi per i suoi investimenti e avrà più mezzi per fare la felicità e il benessere delle persone a cui vuole bene mi sembra una conclusione perfetta bellissima professore mi sembra una conclusione bellissima di questo di questo incontro virtuale perché ci siamo incontrati oggi per la prima volta in maniera virtuale che io spero sarà poi un incontro magari anche al costo di qualche emissione di CO2 magari una volta la vengo a trovare o lei mi viene a trovare io ringrazio tantissimi partecipanti che sono rimasti tutti inchiodati lì e non abbiamo perso neanche uno quindi vuol dire che non li abbiamo annoiati che li abbiamo intrattenuti per 50 minuti siamo andati un po' oltre la mezz'ora però di solito è anche perché diamo spazio ai nostri appunto spettatori ai nostri ascoltatori online non lo so come chiamare la ringrazio molto e ringrazio intanto chi ci ha seguito e magari il professor Leggo e Renzi aspettiamo ancora un po' ci salutiamo in privato tra poco grazie mille grazie per avermi invitato grazie a tutti i partecipanti grazie per avermi invitato grazie a tutti Grazie a tutti